Anche, se ho capito bene, alle scuole calcio? Sì, non proprio, nel senso che i centri sportivi all'aperto, che hanno spazi all'aperto, restano aperti, sono fruibili. Ovviamente all'interno non si potranno praticare sport da contatto, quindi i ragazzi che vogliono andare lì e giocare a pallone, come hanno fatto in passato, non lo possono fare. Se vanno lì all'aperto, invece di andare al parco, e si allenano, fanno attività fisica, fanno le flessioni, fanno tutto quello che non li mette in contatto rispettando il distancio. C'è una scuola calcio qui che può fare tutto tranne la partita, sostanzialmente? Può fare tutto tranne quello per cui probabilmente esisteva, però diventa anche un modo per evitare che tutti i ragazzi siano costretti solo ad andare nei parchi all'aperto per svolgere un po' di attività fisica a sacro santo.